Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele ed oggi devo darvi una notizia a dir poco attesissima Infatti sul Play Store da poche ore è trapelata, è stata rilasciata, una nuova applicazione del nome Fimi Navi Mini Ma perché questa applicazione è così attesa? Beh, non si tratta dell'applicazione in sé ma di quello che andremo a collegare all'applicazione Infatti Fimi Navi è l'applicazione ufficiale utilizzata da Xiaomi Fimi per i suoi droni, il suo Fimi X8 SE ad esempio E questa nuova applicazione Fimi Navi Mini, comparsa un po' a sorpresa, ci fa intuire che è in uscita un nuovo drone da parte di Fimi Un drone mini! Esatto, quello che tutti noi stavamo attendendo, un probabile buon concorrente del DJI Mavic Mini e del DJI Mini 2 Devo dirvi la verità, io sul mio gruppo Facebook vi ho già dato indiscrezioni su questo nuovo drone Già da oltre un anno ma c'è stata la pandemia, tutto il resto, quindi le cose sono andate molto molto a rilento Che Fimi ora sia finalmente pronta nel rilasciare il suo nuovo primo drone sotto i 250 grammi? Beh, sembrerebbe proprio di sì Sempre sperando che questa applicazione non sia una sorta di versione light di quella principale Pensata per smartphone più datati, ma spero di no Comunque sia, dando per buona l'uscita di un ipotetico Fimi Mini, beh, questa applicazione non ci spoilerà, non ci dice più di tanto Alcune immagini ci mostrano la schermata FPV con oltre 3 km di range di controllo, ad esempio Ci viene mostrata l'interessante modalità Waypoint, quindi volo autonomo Ho scaricato l'applicazione, dato che è gratuita, e l'ho un po' spulciata, analizzata per quel poco che si poteva vedere Perché ovviamente senza drone collegato l'applicazione è molto molto limitata Ma ci sono alcuni aspetti interessanti nelle impostazioni Innanzitutto, come vedete in questa foto, notiamo che è possibile attivare l'atterraggio in ritorno a casa di precisione Che permette di centrare al meglio la base di atterraggio e decollo Funzione non presente sul concorrente, ovvero il DJI Mavic Mini Inoltre è presente anche un'opzione dedicata allo smart tracking, ovvero il follow me dinamico Che permette di seguire o una persona o un oggetto Questa sarebbe una funzione davvero fantastica per un drone sotto i 250 grammi Dato che appunto il concorrente della DJI non è dotato di questa funzionalità, nonostante sia molto richiesta Ma non è finita qui, dato che le impostazioni dell'applicazione ci rivelano la possibilità di scattare foto in JPEG più RAW DNG Funzione che è stata inserita sul nuovo Mini 2 ma non presente sul precedente DJI Mavic Mini E infine l'ultima interessante peculiarità che ho scoperto tramite l'applicazione di questo presunto Fimi Mini Qui è la possibilità di dirette live streaming su YouTube Questa è una funzionalità che a me personalmente, essendo uno YouTuber, interessa in particolar modo Non è presente sul DJI Mavic Mini, sul Mini 2 e comunque su nessun drone della DJI Tranne quelli che utilizzano l'applicazione DJI GO 4, ovvero i Mavic Pro, Mavic Zoom, il vecchio Mavic Air e lo Spark Per farvi capire non è presente nemmeno sul nuovo DJI Air 2 e questa è una bella pecca Bene ragazzi, questo è tutto quello che ho scoperto spulciando la nuova applicazione Fimi Navi Mini Speriamo che si riveli davvero un nuovo drone Mini sotto i 250 grammi da parte di Fimi Perché un po' di sana concorrenza alla DJI ci vorrebbe davvero Perché parliamoci chiaro, è passato già oltre un anno dall'uscita del primo DJI Mavic Mini E sul mercato non c'è nulla di paragonabile nella stessa fascia di peso Bene amici, ora voglio sapere la vostra opinione su queste indiscrezioni e sull'applicazione Fimi Navi Mini Secondo voi si tratta dell'applicazione ufficiale per il nuovo drone della Fimi Oppure si tratta di qualcos'altro? Beh, parliamone qui sotto nei commenti E se avete dubbi o domande, intanto si è spenta la luce, perdonatemi ma è tardi, sono al buio Sto registrando questo video un po' alla buona Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate lasciando un bel commento Se avete dubbi o domande, io sono come sempre a vostra totale disposizione E se questo video un po' vi è piaciuto, beh, potete supportarmi lasciandomi un semplice like Un commento, una condivisione, iscrivendovi al canale se avete già fatto E attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video Detto questo, aspettiamo fiduciosi Io vi terrò aggiornati su nuove indiscrezioni, su questo presunto nuovo drone della Fimi Sia qui su YouTube, sia su Telegram, sia su Facebook Trovate tutti i link in descrizione ai video Bene, questo è tutto, noi ci diamo appuntamento al prossimo video Sempre qui su Addicted to Tech Alla prossima, ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti.